La mostra è stupenda, davvero lascia senza fiato per le emozioni, molto essenziale, molto mirata, anche l'allestimento è davvero bello, quindi ancora una volta Napoli punta sulla qualità, sulla cultura e sull'inserimento di una mostra così straordinaria in un luogo così bello della città dove si sta facendo un lavoro davvero efficace, quindi siamo felici che in questo momento Napoli tiene Canova al Man, Caravaggio a Capodimonte e tantissime altre mostre per una primavera straordinaria fatta di cultura e di creatività, di tradizioni e di innovazioni, perché qua c'è anche una parte dedicata alle nuove tecnologie, quindi davvero una mostra da visitare, auspico che tantissimi napoletani e tantissimi viaggiatori della nostra città possano visitare questa mostra.